Buongiorno a tutti. Vediamo come si può verificare se un determinato punto appartiene o meno ad una retta data la sua equazione. Vediamo il primo esempio, vi ho assegnato la retta R e vi ho dato l'equazione. Ora cerchiamo di capire se il primo punto, il punto A di coordinate 1,4, si trova esattamente sopra la retta, però dobbiamo fare questa operazione senza disegnare la retta, quindi non vi chiedo di disegnare la retta e disegnare il punto e vedere se il punto si trova sulla retta, no, vi chiedo di verificare se questo punto appartiene o meno alla retta per via algebrica. Come dobbiamo fare per fare questo? Allora, ci ricordiamo che un punto è costituito da due coordinate che sono una scissa ed un'ordinata. Ora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostanzialmente sostituire la scissa alla x e l'ordinata alla y, dentro quindi l'equazione. Quindi, per capire ciò, cosa facciamo? Scriviamo 4 uguale 8 per 1, perché ci ricordiamo che tra l'8 e la x c'è un per, meno 4. Il 4 lo riscriviamo, 8 per 1 fa 8, 8 meno 4, e quindi otteniamo che 4 è uguale a esattamente 4. Poiché questa uguaglianza è verificata, quindi metto una v per dire che è verificata, va bene? Se volete lo scrivo. Poiché questa è un'uguaglianza verificata, allora possiamo affermare che il punto A appartiene, in matematica si scrive così, appartiene ad R. Ora proviamo a fare la stessa cosa con il punto B di coordinate, questa volta meno un mezzo, 0. Sostituendo otteniamo 0 uguale ad 8 per meno un mezzo, meno 4, meno 4. Quindi otteniamo 0 uguale 8 per meno un mezzo fa meno 4, meno 4. Questo è uguale a 0 uguale a meno 8. Poiché questa è un'uguaglianza falsa, perché non è vero che 0 è uguale a meno 8. Ciò significa, quindi, che il punto B non appartiene, che si scrive così, non appartiene ad R. Non è importante la forma con cui è scritta l'equazione. Come vedete in questo primo esempio, R è scritta in forma esplicita. Vi faccio vedere che si può fare la stessa cosa avendo una retta S in forma implicita. Guardiamo adesso questa retta S qui. Facciamo la stessa identica cosa, quindi sostituiamo l'ascissa un mezzo alla x e l'ordinata 4 alla y. Nell'equazione, quindi cosa otteniamo? 2 per un mezzo più 4 meno 5 uguale 0. Riscriviamo l'equazione sostituendo. Quindi 2 per un mezzo fa 1 più 4 meno 5 uguale 0. 1 più 4 fa 5 meno 5 uguale 0. Ma 5 meno 5 è esattamente 0. E 0 è uguale a 0. Siccome questa cosa è vera, allora qui diremo che il punto, scusate, A appartiene alla retta S. L'ho chiamata S. Facciamo la stessa cosa per il punto invece B. e lo sostituiamo. Quindi abbiamo di nuovo 2 per 3 più 11 meno 5 uguale 0. 2 per 3 è 6 più 11 meno 5 uguale 0. 6 più 11 fa 17. 17 meno 5 è 12 uguale 0. È vero che 12 è uguale a 0? Questa è un'uguaglianza falsa. Allora otteniamo che il punto B non appartiene alla retta S.